Allora sei uscita di casa dopo quanto? Dopo più di tre settimane che sei stata dentro casa, è vero? E perché stavi dentro casa? Perché sei rimasta dentro casa? Perché c'è coronavirus. Ok, quindi hai stoppito per andare a scuola, non? 3 settimane? E questo è il primo giorno che sono andati per la walka, altrimenti stai sempre a casa, non? Scusi a tutti, stai a casa, stai a casa, solo andate a casa, non? Sì, questo è il primo giorno. Perché dovrebbero stare a casa? Perché non si tratta di coronavirus. Ok, non si tratta di infezza, non si tratta di spazio. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, andiamo.